Il viaggio è durato circa 25 ore ma il bus del comune di Troia è arrivato a Medica in Polonia, un piccolo centro, circa 5.000 abitanti, al confine con l'Ucraina, ma mai come ora croce via e sede di uno degli hotspot per l'accoglienza dei profughi, la cui attività si svolge sotto la supervisione della polizia polacca. L'hanno allestito le organizzazioni internazionali, lì chi è in fuga dal conflitto trova uomini e mezzi per provare a raggiungere l'Europa, esattamente come quello partito da Troia, appunto a bordo una piccola delegazione del centro di Capitanata ma anche derrate alimentari, medicinali e coperte da lasciare a vantaggio di chi non può permettersi di abbandonare quei territori. Nel punto di primo soccorso, raccontano, vengono offerti pasti e bevande calde, subito dopo i volontari che hanno un elenco nominale degli ucraini che arrivano, li accompagnano agli autobus. Partenza all'ora di pranzo per poi approdare sul Gargano nel pomeriggio di mercoledì, secondo la tabella di marcia stimata, l'ostello del cammino. È già stato allestito, fa sapere il sindaco Leonardo Cavalieri. Tutto pronto dunque, manca soltanto l'abbraccio della comunità.